Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale, sono Raffaello88 e quest'oggi continueremo un nuovo gameplay con Pokemon Rubino Omega. Allora, dovevamo ritornare al laboratorio, praticamente dove abbiamo cominciato il gioco per intenderci, e vediamo cosa c'è da dirci il Dottor Pokemon. Allora, vediamo un po' dove era qui se non sbaglio, no? Vieni un attimo qua, ok. Pokédex. Allora, il Pokemon vi sto catturando, mia figlia porta sempre a te. Pogbole, eccola qua. Ok. Ci dice nient'altro, no? Lei. Ok, andiamo a catturare di Pokemon allora. Ok. Ora comincia il bello ragazzi. Aspetta, chi è? Ah, la madre. Ok. 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 Ancora, chi è? Bera questa volta. Navidex. Ok. 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 Vediamo un po' qui chi si nasconde. Ah, è il lupo a chiotto. E prendiamo anche il lupo a chiotto allora. Vediamo un pochino se riesciamo a catturarlo. Ok. Ok. Dai che questo ce la facciamo a prenderlo, eh. Eh sì. Allora, nella borsa, vediamo un po' le Pokemon, eccole qua. Ok, usiamolo. Chissà se lo catturiamo. Eccolo qua, l'abbiamo preso, il nostro primo Pokemon. Femmina ragazzi, tipo buio. Ah, buono, dai, è un buon Pokemon. Dai, nessun soprannome. Ok. Vediamo qui chi c'è. Zig Zadon. Allora, usiamo il Zig Zadon. Ok, me la rischierei anche così, eh. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Vediamo un po'. Preso. È il nostro secondo Pokemon catturato ragazzi. Un progione praticamente, sì, abbiamo preso un progione. No, nessun soprannome. Tu? Non ci dici nulla di nuovo? Ah, vabbè, ok. Le solite cose. Vera, un'altra volta, Vera. Ah, un Vrambol. Allora. Mille Bave. Ah. È diventato lento lento. Ok, proviamo a catturarlo. Preso. È un baco. Un piccolo baco femmina. Quasi tutti femmina stiamo provando, no? Cosa vuole, Vera, ancora? Cosa vuole, Vera, ancora? Ok. Piano piano. Eccolo qua. Vediamo chi è questo Pokémon. Un Progione. E questo lo facciamo fuori, il Progione. Prendiamo un po'. Io direi di mettere anche qualcun altro di Pokémon, almeno vi facciamo fare un po' di esperienza. Allora Pokémon. Charizard non ci si incula che niente. Ok. Ecco. Ziggzalon. Sempre sono muori. Allora. Azione. Azione. L'abbiamo fatto fuori. Eh scappa, normalmente l'abbiamo fatto fuori. Comunque. Allora. Andiamo a curare i nostri Pokémon. Allora. Andiamo a prendere qualche pozione. Mirà, qualche pozione ci sta tutta. Dov'è che stavano qui? Chissà se sono tornate anche le Poké Ball. Ah, sono tornato. Ok. Compriamo. Pozioni. Pire due vanno bene. Sì, cinque va bene. Ok. Cinque Poké Ball. Perfetto. Non puoi fare nulla. E adesso andiamo. Chi lo sa se riusciamo ad andare qui adesso? Eh sì. Cioè, figurate che è in Brigille. Quintoria siamo dove? Non si sa. Chi è questo? Vediamo che Pokémon è. Bracere. Dovrebbe bastare. Infatti. Siamo passati di livello. Buono. Comunque mi sa che dobbiamo allenare anche gli altri perché altrimenti rimangono troppo indietro. Eh sì. Vediamo questo che vuole. Non mi sfido. Ok. Ti sfido. Di Matteo Bullo. Allora. Allora, lottiamo. Vi mandiamo subito un bel bracere addosso. Ecco. Perfetto. Perfetto. Qui chi c'è? Vediamo un po'. Direi che questa volta lo sostituisco e mettiamo qualcun altro. Allora, vediamo. Charizard no. Il lupo. Speriamo che c'è un bel bracere addosso. Speriamo che c'è... Oddio. La vedo abbastanza critica. No, direi... No, direi... Pokémon. Cambiamolo. Mettiamo... Zigzagoon. Almeno facciamo un po' di esperienza anche con loro. Così saliamo di diverso. Così saliamo di diverso. Azione. Nelle bave... Abbastanza difficilotto come cosa. Vediamo. Ci sta rallentando di brutto. Ancora queste mille bave. Niente, eh. Non riusciamo proprio. Ancora un altro pochino manco. Oh, l'abbiamo fatto fuori. Perfetto. È salito di livello. Proprio quello che volevo. Anche pochino è salito di livello. Buono. Chi è questo? Un altro Pokémon Coleottero, ragazzi. Ok, direi lo facciamo fuori... Con un solo colpo, ragazzi. Perfetto. E saliamo ancora di livello. Sei proprio un pigliamoschi, Rick. Ok, ragazzi. Io direi... Anche per oggi, per questo gameplay è tutto. Se il video vi è piaciuto, un pollicione in su. Iscrivetevi al canale se vi va. E che dire, arrivederci al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.